Sì, dal centro è Marcello D'Apua che riuscì a scavassare quelli all'interno con Mambo che lì secondo in corda, all'esterno c'è Nottingham Miller e No Limit Access che va subito a spingere mentre sbaglia il New Yorker, No Limit Access che forse tempo dopo 215 nuovo battistrada su Marcello D'Apua che si è fatto scavassare poi Mambo davanti all'otto nuvoloso mentre Nottingham Miller è rimasto all'esterno e nemmeno qualificato 400 metri in 38 nei confronti di Marcello D'Apua a guida No Limit Access che controlla giudamente provocando però adesso l'allungo di Manolo Griff che punta in avanti mentre sbaglia anche il 10-load WVF Ma Limit Access dopo 600 molto comodi passati nel 47,5 al fianco di Manolo Griff che precede all'esterno Nottingham Miller mentre arriva la puntata all'esterno di Fassino Gas 800 in 1-2-1 per il battistrada che per il momento controlla agevolmente la situazione con Fassino che può mettersi in schiena a Manolo Griff ma decide di andare lungo per tentare di scavaltarlo il filometro in 1-18-1 per la Limit Access, se sbaglia Marcello D'Apua si può colare Manolo Griff ma Fassino Gas punta dritto e sbaglia anche Manolo Griff adesso la sfida tra i due piattesi con il comando da Limit Access all'esterno a Fassino Gas poi l'1 di Mambo che cerca di avanzare, l'interno guadagna qualcosa numeroso ma la Limit Access richiesta mette assieme un parziale veloce prende due di margine a Fassino Gas e fa speso per essere secondo in corda poi il numeroso che precede un po' di Aos e la curva ancora in spinta per la Limit Access che poi adesso deve essere un po' richiesta problemi di andatura evidenti per la Fassino Gas non Limit Access che va a chiudere facile alla meta nei confronti di Nuovo Loss poi la 13 di Fassino Gas da verificare con l'11 di Moro